buongiorno a tutti e benvenuti in questo webinar di martedì innanzitutto mi sentite correttamente vi chiedo di darmi un piccolo feedback in chat sì perfetto ok allora direi che possiamo iniziare quest'oggi puntuale e in questo webinar dedicato alla formazione finanziata abbiamo l'onore e il piacere di avere diversi ospiti inizio col presentarvi Gianni Gruttadauria del fondo Fonarcom Nicola Chiocchi diedotto e Roberta Cavaliere che ci racconterà il loro caso applicato al loro caso di formazione finanziata applicata all'azienda che Roberta è di OnSolution e un nostro partner abbiamo anche tanti partner collegati quindi spero che sia un ottimo spunto di riflessione per voi questo questo webinar direi che possiamo partire con Nicola Chiocchi diedotto appunto Nicola lo conoscete sicuramente già perché lo avete visto al nostro partner meeting Nicola ci supporta in tutte le diciamo procedure di ottenimento dei finanziamenti per la nostra formazione quindi lascerei a lui la parola e ci vediamo più tardi ciao Federica e buongiorno a tutti e grazie per la presentazione come come dico spesso quando ci sono eventi con voi è per me un piacere un onore partecipare ringrazio sempre per l'invito e come vedete anche se non sono propriamente in un ufficio fisico ho sempre il piacere di partecipare per diffondere un po' di cultura sulla formazione finanziata tanti se ne riempono la bocca e pochi riescono poi utilizzare questo canale questo strumento che diventa sempre più importante per la crescita delle aziende e dei lavoratori volevo cominciare questa mia breve introduzione all'evento di oggi ringraziando netesis per quello che fa con noi ormai sono diversi mesi che abbiamo iniziato un percorso di condivisione di progetto il progetto sta andando bene quindi abbiamo inizialmente rivolto la formazione alla netesis casa madre poi adesso stiamo allargando l'opportunità a tutta la rete di partner di concessionari di rivenditori e di fruitori lo stiamo facendo con metodi moderni perché il progetto nel quale ci siamo concentrati nelle ultime settimane negli ultimi mesi riguarda l'iniziativa della formazione a distanza quindi dei corsi net voice net security e è apprezzabile il fatto che netesis abbia voluto anche aggiungere oltre alla formazione a costo zero un ulteriore gratificazione per chi decide di formarsi e per chi decide di investire nella propria formazione è scontato dire che la prima cosa da analizzare è l'importanza della formazione a 360 gradi oggi si parla di formazione come contributi si parla di formazione come leva commerciale si parla di formazione come miglioramento delle proprie skill personali che valgono anche nella vita non solo nel luogo di lavoro e per nostra fortuna e non tutti sanno anche come come fare c'è la possibilità sia di finanziare sia di chiudere il giro anche recuperando il costo perché probabilmente avrete sentito tutti parlare di industria 4.0 di fondo nuove competenze sono strumenti nei quali il denaro non manca le iniziative pubbliche non mancano sono aiuti di stato che spettano a tutti ogni vostra azienda ha diritto ad un massimale di 200 mila euro di aiuti di stato nell'arco di un triennio quindi questa cosa vuol dire che ci sono delle opportunità che il nostro stato ci mette a disposizione noi stiamo percorrendo ormai da anni sono quasi 11 anni che siamo a braccetto con il fondo interprofessionale fonarcom che ogni ogni giorno ringraziamo per la propria velocità per la propria disponibilità e per la propria capacità di rispondere alle esigenze reali delle aziende siamo al fianco di fonarcom perché è uno è un fondo interprofessionale a nostro avviso il migliore per le pmi che poi sono il 95 per cento della della realtà del tessuto nazionale perché è importante questo aspetto perché ci permette di restituire che è il termine che più amo utilizzare anche in sede di convegno i denari alle persone come noi quindi non le mega aziende anche se anche loro a loro volta possono beneficiare ma per la maggior parte edotto forma le piccole le micro aziende le medio aziende come le formiamo andando a occuparci della parte burocratica come sapete come potete immaginare ci sono dei moduli da firmare sarei sarei troppo semplicistico se dicessi che non c'è un po di burocrazia ma per gran parte gestiamo tutto noi perché questo è quello che fa edotto edotto gestisce e sgrava tutto quello che è l'onere burocratico di progettazione pianificazione rapporti con il fondo rapporti con i revisori rendi contazione dei piani formative questo permette di accorciare e di eliminare la distanza che c'è tra il denaro pubblico e la formazione e l'ottenimento del servizio sempre più è importante formare i propri dipendenti le risorse aziendali perché molti studi confermano che una risorsa formata è più che produttiva è più che proporzionalmente produttiva rispetto ad aziende non non formate ed è per questo che oggi abbiamo voluto portare anche un caso pratico di una nostra di un nostro partner poi sentirete dalle parole di roberta della on solution come stanno utilizzando loro la formazione finanziata e mi preme sottolineare che non è da tutti avere un fornitore avere un partner avere una casa madre che fa degli webinar che fa degli eventi che coinvolge noi come ente di formazione il fondo come soggetto pubblico per indicare che ci sono queste opportunità tendenzialmente ogni fornitore cerca sempre di proporre vendere creare volume creare affari creare fatturato in questo modo netesis vi sta dando una leva uno strumento per risparmiare per guadagnare nel caso in cui vogliate diventare soggetti attivi in questa iniziativa e vi ricordo che tutti voi potrete essere formatori dei prodotti che vendete quando c'è la vendita di un software di un gestionale di una di un modulo di un prodotto che riguarda la sicurezza che riguarda il centralino tutti voi fate formazione questa formazione si può finanziare quindi i lati in cui possiamo modulare la formazione sono tanti si può ricevere formazione si può erogare formazione laddove c'è un percorso laddove ci sono delle uno scambio di know-how di skill di competenze e lì si può intervenire con la formazione finanziata ovviamente ci sono anche delle degli argomenti che riguardano cose un pochino più scontate che sono comunque importanti da fare mi riferisco alla sicurezza nei luoghi di lavoro ma tanti oggi ci stanno chiedendo le soft skill anche a livello di informatica perché perché in quest'ultimo anno e mezzo come vedete io sono all'aperto in questo momento non potrei essere all'ufficio sto utilizzando dei strumenti informatici che mi permettono di eseguire lo stesso il webinar odierno stessa cosa vale per chi in questo anno e mezzo ha dovuto incrementare ha avuto magari dei problemi di scarsa adattabilità all'informatica sappiate che con corsi di formazione di informatica di base di digitalizzazione di gestione dei mezzi informatici si può migliorare e si può accelerare anche il flusso lavorativo aziendale quindi documenti condivisi gli excel gli sharepoint il microsoft sono tutti strumenti che oggi fanno la differenza quando si vuole dare il servizio a un cliente a un soggetto esterno per quel che mi riguarda lascio la parola a gianni cottadauria che è un responsabile e il responsabile della promozione del fondo interprofessionale Fonarcom che scenderà più nel dettaglio tecnico di quelle che sono le grandi i tanti strumenti ed è anche per questo che abbiamo scelto Fonarcom perché ci da tanti strumenti per poter fare formazione e per qualsiasi cosa ormai ci conosciamo da da diversi anni essendo edotto sponsor in anche negli eventi quelli bellissimi che torneremo spero a fare in presenza credo che già ci sia una data anzi sono sicuro che già c'è una data per per il prossimo anno quindi in attesa di rivederci in presenza proprio il prossimo anno ti ricordavo bene in attesa di rivederci in presenza rimango a vostra disposizione su tutti i canali la mia mail è sempre a vostra disposizione n.chiocchi.chioccioledotto.com sono su linkedin sono più o meno ovunque lascio la parola a gianni grazie federica grazie netesis e buon proseguimento grazie grazie a nicola per eh la 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 meravigliosa introduzione che che ha fatto rispetto a quello che è il nostro ruolo di fondo interprofessionale noi come ha correttamente eh illustrato eh nicola eh siamo lo strumento di tipo strutturale, quindi di lungo periodo che consente a tutte le aziende che hanno almeno un dipendente tipico previa adesione che non ha nessun costo, questo lo voglio ribadire ma so che questa è ormai un valore di informazione ormai ai più condiviso quindi l'adesione al fondo interprofessionale non ha costi e consente come contropartita la possibilità di accedere alle risorse che il fondo stesso mette a disposizione per fare cosa? Per adeguare il capitale umano per fare in azienda, qualunque tipo di azienda delle operazioni e degli interventi strutturali su quello che noi come fondo interprofessionale consideriamo il fattore produttivo più importante che è proprio il capitale umano. Nicola quando ha parlato di quelli che sono i temi della formazione ha ragionato e ha illustrato quelli che in realtà coincidono con i fabbisogni formativi delle aziende Ora, vedete, su questo fronte noi come fondo interprofessionale abbiamo messo a disposizione di tutti, di tutte le aziende e quindi a disposizione dei soggetti attuatori cioè di quegli enti che tecnicamente hanno capacità tecnico-economiche per poter avere i contributi e per poter poi trasformare le risorse in formazione sul campo noi abbiamo dato ampia flessibilità ed ampia libertà di soddisfare qualunque fa bisogno formativo quindi se noi andiamo ai tempi recenti stiamo uscendo da un evento assolutamente straordinario quale la pandemia e con l'avvento con la pandemia ci siamo dovuti tra virgolette adattare in un breve lasso di tempo a accelerare quello che io chiamo un percorso verso la digitalizzazione che in realtà era già avviato che Fonarcom aveva già avviato in tempi non sospetti nella seconda metà del 2019 proprio incentivando e favorendo le iniziative formative che andassero nella direzione dell'innovazione della digitalizzazione e delle trasformazioni che comunque nel mondo del lavoro e nel modo di lavorare si vanno verificando la pandemia poi sappiamo benissimo ha accelerato un po' tutta questa dinamica oggi ragioniamo temporalmente in un momento storico particolare direi anch'esso straordinario perché stiamo per uscire da una da una emergenza di tipo sanitario per tornare verso la normalità delle dinamiche di relazione che ovviamente fa il paio con quello che è il modo di lavorare e sappiamo già molto molto bene lo intuiamo già che non sarà tutto come prima quindi dobbiamo sfruttare quello che di buono abbiamo fatto come esperienza sulla nostra pelle cercando di andare in una direzione sempre più spinta che va nella direzione proprio di una capacità di utilizzo di strumenti di tecnologia e all'introduzione di innovazione che vedete introdurre innovazione di tipo tecnico di tipo organizzativo all'interno delle aziende vale per le aziende manifatturiere ma vale per le aziende che sono impegnate nei servizi del terziario avanzato vale per tutti coloro che utilizzeranno anche strumenti e nuovi software gestionali perché ciò servirà per poter implementare la propria capacità e la propria produttività sia a livello individuale ma ovviamente perseguendo anche quelli che sono una direzione di crescita e di sviluppo di lungo periodo di tutte le aziende Nicola vi ha anche raccontato di quelle che sono le nostre capacità come fondo interprofessionale di metterci a disposizione per cercare di appiattire quanto più possibile quindi di ridurre quanto più possibile l'impatto che c'è tra il fondo interprofessionale che comunque è destinato a derogare e a gestire risorse pubbliche è quello che è il momento in cui si celebrano le aule si fa formazione a distanza lì Fonarcom non dà nessun tipo di limitazione circa la modalità con cui la formazione viene erogata ma la modalità è esattamente coincidente a con il fabbisogno formativo e con le competenze da trasferire ai lavoratori dipendenti B anche con quello che è il minore impatto possibile rispetto all'attività produttiva che quei lavoratori che sono interessati da una riqualificazione dovranno dovranno occupare che si debba fare che si debba fare un come dire scorta di competenze soprattutto in questo periodo è assolutamente fondamentale sapete tutti lo leggete sui giornali ma in realtà è una cosa che si sta muovendo tante risorse stanno arrivando verso i sistemi produttivi del nostro del nostro paese per spingere l'economia nazionale ma anche ovviamente a livello europeo verso ritmi di crescita che servono a recuperare quanto perso durante la pandemia B a cercare di tirarsi fuori strutturalmente da quelli che sono i GEP soprattutto a livello tecnologico e di sostenibilità ambientale che purtroppo su cui purtroppo dobbiamo registrare un livello non avanzato come gli altri paesi europei quindi dobbiamo darci dentro le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza stanno per arrivare sui territori ma quelli servono per garantire crescita e sviluppo di tipo strutturale a tutte le attività produttive se non c'è un background di competenze capaci di accogliere e di gestire al meglio tutto quello che arriva a livello di nuovi investimenti ovviamente quelle aziende si troveranno impreparate oppure saranno destinate a marginalizzarsi rispetto a un percorso virtuoso che diciamo pretende invece una proattività da parte di tutte le aziende il fondo interprofessionale è costruito Fonarcom è costruito per questo è uno strumento di servizio operativamente a disposizione di tutte le aziende tecnicamente è flessibile per per quelle che sono tutte le esigenze dell'ente attuatore quindi dell'ente di formazione nel cercare di trasferire le risorse e farle diventare formazione finanziata sul campo Gianni su questo fronte prego su questo grazie mi dai un ottimo mi alzi un'ottima palla per dire che noi abbiamo scelto per il gruppo Nethesis lo strumento SDI quindi il sistema di imprese quindi di raccontare in due minuti di cosa si tratta perché credo che sia molto importante come strumento veloce pratico ed efficace beh vedete il sistema di imprese è uno strumento di finanziamento della formazione continua che fa tesoro di un valore fondamentale che è l'aggregazione dentro lo stesso sistema di più aziende che hanno fabbisogni formativi omogenei a ciascuna azienda e a tutto il sistema nel loro complesso Fonarcom garantisce l'accantonamento delle risorse che poi possono essere utilizzate volta per volta tempo per tempo sulla base di quelle che sono le necessità e i fabbisogni formativi che vengono rilevati con costanza con frequenza e con una periodicità abbastanza elevata da parte ovviamente di Nethesis piuttosto che di Edotto questa cosa ha reso efficiente ed efficace sia diciamo una risposta in termini di valore assoluto perché le aziende che stanno dentro il sistema di imprese lo fanno con la fiducia e con l'affidabilità del soggetto capofila di poter come dire arrivare a un momento in cui si esprime il fabbisogno e quel fabbisogno entro un breve tempo viene risolto a costo zero e questa è una cosa fondamentale l'altra cosa è che sgrava completamente tutte le aziende da quelle che sono diciamo Nicola le ha definite come annempimenti burocratici ma come una diciamo quelle procedure di tipo amministrativo che sono necessariamente legate a un'attività di rendicontazione che tutti i fondi interprofessionali sono abilitati ad attivare nell'ambito di quello che è un sistema di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate a fare formazione continua quindi diciamo che da questo punto di vista noi continuiamo e continueremo il rapporto la sinergia e la collaborazione con con Edotto affinché i diciamo la realtà netesis e anche tutte le altre realtà noi tra poco io sono molto interessato a sentire l'esperienza sul campo vissuta da una da un'azienda e grazie a questo ovviamente ciascun altro operatore presente partecipante a questo webinar potrà capire e potrà toccare con mano qual è il reale valore aggiunto di fare attività formativa a costo zero e di farla in maniera efficace ed efficiente grazie a soggetti che sono tecnicamente e professionalmente adeguati a farlo nel più breve tempo possibile io vi ringrazio sono anch'io a disposizione vostra mi tratterrò ancora per un po' insieme insieme a voi se ci sono delle domande o delle richieste di approfondimento di taluni aspetti che sono legati anche come dire alla banalità di una richiesta o di una domanda ma questa cosa si fa in questo modo come si può fare insomma non abbiate timore di fare e di esprimere le vostre le vostre perplessità se ce ne sono i vostri dubbi o di voler chiarire o approfondire taluni aspetti legati a questa ottima opportunità e ottimo vantaggio per le aziende e per i lavoratori grazie grazie Gianni ne approfitto per ricordarvi che c'è la chat qui sotto potete scrivere qualsiasi tipo di domanda e noi alla fine del webinar saremo disponibili per rispondere io vi racconto brevemente con l'ausilio di slide quello che è la nostra esperienza e cosa stiamo cercando di fare per aiutare i partner a formarsi e a cogliere le opportunità della formazione finanziata come sapete durante il diciamo questa pandemia abbiamo messo su una piattaforma e-learning formazione.netesis.it dove si possono seguire tutti i corsi base e avanzati commerciali e tecnici quindi service voice security base avanzato abbiamo anche un corso di net server e linux e un corso commerciale e i corsi sono semplicissimi durano circa 7-8 ore i corsi base mentre i corsi avanzati durano solo 4-5 ore ed è possibile seguirli in moduli quindi non è necessario stare 7 ore davanti al computer ma si possono fermare anche dopo 10 minuti e poi si possono riprendere in altri momenti quando siete più liberi questo lo potete fare durante gli orari di lavoro lo potete fare la notte lo potete fare nel fine settimana siete molto liberi di frequentarlo e abbiamo fatto sì che solo per i partner iscritti al Fonercom è disponibile uno sconto da usare su un headshot di 50 euro per ogni corso e per ogni partecipante che segue il corso quindi se siete già iscritti al Fonercom potete semplicemente mandarci una mail con la lista dei corsi che intendete seguire la lista dei dipendenti e dopo vi manderemo alcuni documenti molto semplici mentre se non siete iscritti al Fonercom vi consiglio di iscrivervi subito e l'iscrizione è completamente gratuita e a settembre sarete pronti a partire vi racconto un paio di numeri e da quando abbiamo avviato questa diciamo la piattaforma di formazione abbiamo ricevuto più di 100 richieste di finanziabilità dei corsi e per cui stiamo erogando più di 5000 euro di buoni sconto da usare su un headshot per cui io vi invito a fruirne e nel frattempo vorrei anche farvi raccontare l'esperienza che di Roberta di OnSolution che non solo ha colto l'opportunità dei buoni sconto ma ha anche organizza anche diverse attività formative sia per se quindi per OnSolution che per i propri clienti Roberta ci puoi sentire? Ok Mi sentite? Buongiorno mi presento Io sono Roberta collaboro con OnSolution dal 2018 OnSolution nasce nel 2011 il progetto dei due soci fondatori Alfredo e Mariano fin da subito si è posizionato nel mercato della rivendita software per commercialisti e per aziende accanto a questo settore visto poi l'esperienza maturata l'offerta si è ampliata e adesso si occupa anche dell'attività sistemistica di consulenza informatica con NETESIS so che c'è un lungo rapporto che dura da ben 17 anni e ad oggi abbiamo seguito un po' tutti i corsi che voi che voi avete proposto per noi è stata un'ottima opportunità di crescita per il nostro personale un valore aggiunto per i tecnici e soprattutto essere aggiornati ci ha permesso di ridurre i tempi di risposta sulle varie problematiche ed avere poi anche un feedback davvero positivo da parte delle aziende quindi noi ci siamo sempre battuti sull'importanza della formazione tanto che anche i nostri tecnici credo che abbiano fatto tutti i corsi da voi da voi proposti e negli ultimi tempi poi ci siamo affiancati contenti di questa di questa esperienza con Nethesis ci siamo affiancati con Edutto io devo dire che all'inizio ero molto scettica corsi di formazione e a zero zero costo lo vedevo sempre dicevo ma sicuramente poi c'è un inghippo qualcosa che ci blocca qualcosa che non ci permette di portare a termine la formazione un po' un po' questa questo scetticismo lo vedevo anche nei nostri nei nostri clienti che sì mi dicevano ma sì dai ci scriviamo poi quando invece io ho cominciato a incalzare guarda che dobbiamo portare a termine il corso dobbiamo formarvi insomma lì si sono ricreduti in primi sì io mi sono ricreduta anche perché io devo dire che la la gamma di corsi offerti da edotto è davvero amplissima è ampia assolutamente non si può non trovare un corso adatto alle esigenze delle aziende poi peraltro io devo dire che il team di edotto è davvero splendido perché insomma siamo riusciti ad organizzare anche dei corsi a mettere in piedi dei corsi che erano i più disparati che nessun altro corso interprofessionale riusciva ad organizzare e per cui grandissima soddisfazione le aziende portano a termine il corso e subito dopo io so che nel giro di brevissimo mi richiamano perché mi dicono ma non è che è possibile rifare il corso rifare un corso approfondire quello che abbiamo quello che abbiamo fatto per cui è davvero è stata una scommessa ma è stata davvero c'è una fiducia berla riposta e ovviamente ha anche il suo rovescio della medaglia abbiamo detto che c'è una parte burocratica che bisogna portare a termine e non si può fare quello che si vuole e le aziende innanzitutto devono iscriversi ci deve passare un po' di tempo prima che il fondo riesca ad avere diciamo la matricola vedere la matricola nella propria area quindi bisogna bisogna costruire il corso edotto deve comunque attivarsi ad avere le autorizzazioni bisogna scegliere i modi i tempi di formazione però tutto questo diciamo noi dobbiamo sempre pensare che a costo zero scegliamo i docenti che si vuole scegliamo la tempistica scegliamo le modalità di formazione che può essere in aula che può essere a distanza per cui io davvero ne sono entusiasta cioè io lo sto proponendo a tutti perché perché in questo momento soprattutto in questo momento in un mercato del lavoro che è in continua che è in continua crescita che è in continuo cambiamento la formazione deve essere è una condizione sine qua non per qualsiasi azienda io dico sempre non solo per le grandi aziende ma anche soprattutto per le piccole aziende spero di essere stata esauriente mi scuso perché un po' l'emozione per la prima volta ha giocato ha giocato però insomma sei stata bravissima Roberta grazie se mi è possibile volevo un attimo integrare le considerazioni di Roberta ci possiamo dare del tuo certo di 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 rispetto a quelli che sono diciamo le gli adempimenti la l'amministrazione e la burocrazia che ci sta dietro hai detto bene Roberta sono risorse che consentono alle aziende di accedere e fare attività formativa a costo zero e dobbiamo comunque scontare ma su questo ci mettiamo anche noi ci coinvolgiamo anche noi i fondi interprofessionali su quelle che sono ad esempio tempi e dinamiche di notifica da parte dell'Inps ai vari fondi tra cui anche noi circa l'avvenuta adesione di un'azienda di qualunque dimensione al fondo prescelto ovviamente tu facevi riferimento ai tempi beh tecnicamente ci vogliono dei tempi tecnici della da parte della direzione centrale delle entrate contributive per notificare poi al fondo che l'azienda OnSolution ha scelto Fonarcom e poi noi la vediamo nei nostri sistemi nella nostra nella nostra area nel nostro database ovviamente sono dei tempi che noi non 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 controlliamo ma possiamo mediamente ricondurli nell'ambito di tre barra quattro settimane lavorative quindi quando un'azienda oggi magari di quelle che ci stanno ascoltando decidesse di entrare a far parte della famiglia delle aziende aderenti a fondo Fonarcom e quindi contestualmente all'ingresso in fondo Fonarcom entra nel sistema di imprese edotto così gli si apre il mondo netesis il mondo della formazione per i partner allargata a tutti i partner ci vogliono dei tempi tecnici quindi quanto tempestiva è questa decisione tanto migliore tanto più breve sarà il tempo che decorre dalla decisione di sposare Fonarcom e quindi il sistema di imprese edotto e poi il passaggio successivo è quello di fruire semplicemente a costo zero di quelle che sono le attività formative di quello che è il trasferimento di competenze poi devo dire ora non so se Nicola è ancora collegato edotto rispetto a quello che è il rapporto e le relazioni con quello che noi abbiamo con tutto il sistema degli operatori che si occupano e sono dediti a erogare servizi di formazione professionale e servizi di formazione continua è uno dei più grossi player italiani quindi ha dei numeri abbastanza significativi in fondo Fonarcom come aziende che seguono ovviamente che sono seguite che hanno la possibilità grazie alle risorse del fondo dentro il sistema di imprese di poter fruire a costo zero di attività di formazione continua grazie guarda Zanni ne approfitto perché in chat leggo una domanda come si fa ad aderire al fondo allora un'azienda che ha almeno un dipendente tipico e io per dipendente tipico intendo un dipendente che è iscritto nella matricola aziendale IMS ancorché a tempo determinato o a tempo non full time quindi anche part time l'azienda per quel lavoratore avendolo diciamo assunto e avendo applicato un contratto di lavoro del settore privatistico qualunque esso sia paga degli oneri tra gli oneri previdenziali assistenziali paga una quota parte di costo del lavoro che va ad alimentare gli oneri per la disoccupazione involontaria parte di questo costo che è il costo del lavoro che comunque l'azienda dovrà sostenere può essere devoluto attraverso la scelta di aderire a un fondo interprofessionale questo è possibile dalla legge 388 del 2000 in poi che cosa succede che l'azienda darà mandato al proprio consulente del lavoro barra commercialista o comunque al proprio ufficio paghe di perfezionare l'adesione al fondo interprofessionale Fonarcom attraverso il software gestionale dell'azienda o attraverso diciamo il professionista della consulenza del lavoro si perfeziona l'uniemens e si può fare mensilmente in coincidenza proprio con il pagamento dei contributi mensili dei singoli che il datore di lavoro paga per i singoli lavoratori a partire da quel momento quindi perfezionato il flusso uniemens passa decorre quel tempo medio di tre barra quattro settimane lavorative di cui vi avevo parlato prima dopodiché l'azienda comparirà nel database che ci comunica IMS con l'aggiornamento che quella quel codice fiscale ha aderito a fondo Fonarcom da quel momento il giorno dopo il giorno stesso l'azienda potrà firmare il mandato a edotto barra netesis per poter poi fruire di tutta la gamma e di tutto il catalogo dell'offerta formativa che entrambi mettono a disposizione in maniera tale insomma da entrare nel sistema quindi passa un mese e mezzo nell'arco di 50 barra 60 giorni è tutto pronto e l'azienda diciamo da fuori rispetto al fondo entra al fondo entra nel sistema di imprese edotto e potrà avviare alle aule oppure a distanza con questa modalità potrà fruire gratuitamente della formazione finanziaria quindi se lo fanno subito a settembre sono pronti per partire con i corsi diciamo che sì sì esattamente esattamente ma lo possono fare anche ad agosto possono perfezionare le riunie menze ad agosto anche non è un problema l'adesione si fa una volta sola e poi salvo revoca poi diciamo va avanti di suo e mantiene lo status di azienda aderente al fondo no la cosa importante la cosa interessante è che queste risorse non sono dei costi o degli oneri aggiuntivi che il datore di lavoro dovrà sopportare cioè quelli che determinano l'adesione a un fondo sono delle risorse che se l'azienda non opta attraverso il consulente attraverso l'uniemens per versarle al fondo che ha scelto vanno comunque versate rimangono nella disponibilità dell'Inps che poi fa con il gettito non opzionato dello 030 ai fondi e poi ne fa un utilizzo diverso insomma sempre legato ad attività di riqualificazione però insomma sono risorse difficilmente aggredibili tra virgolette da parte delle aziende soprattutto le micro e le piccole aziende che come ha detto giustamente Ricola sono il oltre il 90% del nostro della caratteristica del nostro sistema produttivo nazionale quindi i fondi sono da questo punto di vista la soluzione ideale per rendere uno strumento strutturale a supporto di quella che è l'attività formativa e le competenze che periodicamente e credetevi il futuro dice che le competenze e la periodicità con cui si farà trasferimento di competenze è destinata ad aumentare l'intensità è destinata ad aumentare l'aggiornamento bisognerà farlo perché le aziende non possono permettersi di rimanere indietro e io diciamo faccio un po' ricordo il sottotitolo di questo webinar proprio legato a questa cosa il concetto è se non ti formi rimani indietro in buona sostanza poi Gianni ho tantissime altre domande quindi io sono qui a vostra disposizione siamo allora chiedono anche approfondimenti sui voucher neossunti e aziende allora il voucher è una è uno strumento di finanziamento che noi abbiamo reso compatibile rispetto all'azienda che ne potrà fruire abbiamo reso compatibile con altri strumenti che impegnano la stessa azienda all'interno di Fondo Fonarco e faccio un esempio molto molto tipico se un solution avesse delle necessità formative pur essendo all'interno del sistema di imprese quindi pur potendo fruire di tutto quello che è la proposta all'offerta il catalogo formativo edotto barra netesis ha delle necessità che escono fuori diciamo dal seminato o non sono assolutamente prevedibili allora l'azienda potrà richiedere l'attivazione di un voucher aziendale ovviamente il voucher azienda nella versione che vede il lavoratore beneficiario come ne ho assunto a il voucher ne ho assunti quindi diciamo è un di cui cioè sono delle forme che noi abbiamo sono delle forme di finanziamento di sostegno alla formazione continua che noi abbiamo configurato proprio per essere e per mantenersi come di fatto come strumenti di politica attiva del lavoro e la politica attiva del lavoro migliore in questo paese è proprio fare formazione ai lavoratori quindi quando il lavoratore si trova nei requisiti previsti dall'avviso ed è nelle condizioni di essere definito come lavoratore neoassunto allora potrà utilizzare il budget e il plafondo delle risorse disponibili da quell'avviso Fonarcom diversamente potrà utilizzare per tutto il resto la formazione ad hoc che è legata magari a formare anche uno barra due lavoratori di quell'azienda attraverso il voucher azienda poi mi chiedono la procedura prevede il pagamento da parte dell'azienda e di conseguenza un rimborso alla stessa a fine corso oppure un pagamento diretto da Fonarcom all'ente formativo nel secondo caso finisco perché così almeno nel secondo caso è richiesto l'inserimento delle ore formative nel cedolino di competenza del dipendente che ha fruito del corso allora rispondo alla prima ma poi di conseguenza c'è anche la seconda allora la situazione è questa quando l'azienda entra manda in aula i lavoratori lo fa senza sostenere alcun costo quando noi trasferiamo il contributo che serve a sostenere proprio a rimborsare tra virgolette i costi della formazione se è all'interno di un'operazione finanziata dal sistema di imprese piuttosto che dal voucher noi trasferiamo le risorse direttamente al soggetto attuatore che per noi è l'ente di formazione quindi l'azienda non ha non ha nessuna nessun aggravio in termini di esborso monetario o anticipazione di risorse legate ai costi per fare per perfezionare i percorsi formativi nel voucher invece essendo una procedura che eroga il contributo direttamente all'azienda sarebbe l'azienda che poi ha gli oneri di rendicontazione verso il fondo perché noi se l'azienda ci chiede ore di formazione è un valore economico per uno o due lavoratori nei termini e nei limiti è il massimale previsto dai singoli voucher ovviamente noi il contributo lo riconosciamo direttamente all'azienda così è ma dentro il voucher noi abbiamo previsto la possibilità di delegare il pagamento del contributo direttamente al soggetto fornitore dei percorsi formativi quindi come l'azienda nella stragrande maggioranza dei casi compra a mercato il o i percorsi formativi finanziati nel caso di specie dal voucher basterà che l'azienda indichi all'interno della proposta di finanziamento ma questo lo faranno direttamente i consulenti diciamo netesis barra edotto inseriranno la cessione del credito del contributo quindi le aziende presenteranno a fondo fonalcom una richiesta per fare otto ore a due percorsi lavorativi ai propri dipendenti il fornitore del servizio edotto barra netesis erogheranno i percorsi formativi l'azienda dichiarerà al fondo quando avrà concluso il percorso formativo io o i lavoratori che il diciamo il piano formativo è finito e poi il fondo paga direttamente l'ente di formazione perché è il soggetto che ha erogato il contributo quindi come dire nessun aggravio anche se tornando a quel discorso diciamo della burocrazia che pesa su queste cose non c'è nessun aggravio perché comunque dell'operazione tecnicamente se ne faranno carico e su questo io voglio anche diciamo rassicurare un po' tutti sebbene le modalità prevedano un'erogazione diretta un riconoscimento diretto delle risorse del contributo all'azienda tuttavia noi riconosciamo anche e possiamo attivare il referente del piano per l'azienda che può essere sicuramente il consulente dentro l'ente di formazione che poi è l'erogatore dei servizi allora ovviamente volevo accennare al fatto che per quanto riguarda la parte più burocratica ce ne occuperemo noi di netesis per i nostri partner per cui è una cosa che possono non temere ampi e totali rassicurazioni bene poi mi chiedono i corsi si possono fare a distanza o in presenza decide l'azienda che riceve la formazione decide l'azienda insieme all'erogatore della formazione noi per quanto di nostra competenza non mettiamo nessuna limitazione è una cosa che ho detto anche prima non mettiamo nessuna limitazione né al tema della formazione che finanziamo né alla modalità con cui questa viene erogata perché noi abbiamo diciamo un valore fondamentale un principio fondamentale che rispettiamo che sono ovviamente quelli di fare formazione all'interno di un'azienda cercando di ottenere il minore impatto possibile rispetto a un'attività produttiva ordinaria questa è una cosa fondamentale poi mi chiedono possono partecipare anche i soci di SNC o solo dipendenti? gli allievi rendi contabili dagli strumenti nostri sono esclusivamente i quindi parlo per allievo rendi contabile il discente che compone l'aula oppure il destinatario dell'unico percorso formativo individuale che viene finanziato attraverso il voucher per esempio quelli devono essere esclusivamente lavoratori dipendenti quindi i quelli che versano grosso modo però noi non mettiamo nessuna limitazione alla possibilità di poter integrare nella stessa aula di allievi rendi contabili anche un numero illimitato ovviamente possibile e compatibile con gli spazi piuttosto che con le modalità di erogazione di uditori quindi il socio della SNC piuttosto che anche l'imprenditore il datore il datore di lavoro stesso ci è capitato tantissime volte potrà fluire dei percorsi formativi finanziati per i propri dipendenti e potrà ovviamente anche egli avere l'attestazione la certificazione delle competenze perché quella è una prerogativa che assicura l'ente di formazione quindi l'ente erogatore poi chiedono dove posso vedere l'offerta formativa del fondo e di edotto allora l'offerta formativa è di fatto costruita attorno ad un catalogo tutte le proposte formative quindi i percorsi formativi che vanno a incidere sulle competenze per aree tematiche non sono rivedibili o rinvenibili nel 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 fondo ma direttamente presso il soggetto attuatore quindi è edotto che è titolare di un catalogo di offerta formativa ed è titolare di quello che è di quella che è l'insieme dei percorsi formativi che poi verranno potranno essere finanziati anche con con la finanza con le risorse del fondo Fonarcom per fare formazione finanziata bisogna avere almeno un dipendente non occorre nessun altro requisito? No Quanto tempo passerà dall'avvio del corso all'erogazione del finanziamento? Questa è una domanda che ha fatto un'azienda o ha fatto un ente di formazione sapete perché? Vi dico questo perché di fatto noi all'interno dei sistemi di imprese e voi di fatto fruirete dei percorsi formativi all'interno del sistema di imprese non avete la necessità di attendere diciamo la il perfezionamento delle fasi successive ad una procedura di evidenza pubblica non l'avete neanche in realtà se queste aziende dentro il sistema di imprese quindi se i partner netesis ciascuno singolarmente volessero accedere ai voucher perché? Perché noi i voucher li finanziamo e abbiamo una procedura a sportello quindi la finestra è aperta e la dotazione di risorse è fine ad esaurimento quindi non c'è nessuna necessità rispetto ai tempi dentro il voucher i tempi medi sono intorno ai 10-12 giorni lavorativi da quando l'azienda presenta alle parti sociali la proposta di piano formativo dentro un voucher a quando il fondo non fa la comunicazione di approvazione da quel momento o dal giorno successivo l'azienda può andare in aula queste sono diciamo le tempistiche all'interno del sistema di imprese siccome il sistema di imprese lavora ad accantonamento ed utilizzo dell'accantonamento delle risorse che sono disponibili di fatto non bisogna attendere le fasi procedurali classiche dell'evidenza pubblica noi in questo momento abbiamo un avviso generalista aperto che però avrà la sua graduatoria terminate le fasi di 30 giorni per presentare il piano alle parti sociali poi altri 30 giorni al fondo per la valutazione e poi la graduatoria quindi diciamo 90 giorni vanno via come procedura ad evidenza pubblica mentre invece il sistema di imprese è un lavoro di finanziamento in continuo ci sono le risorse sono le disponibilità delle aziende c'è soltanto da bussare a denari ovviamente lo farà edotto con il piano formativo presenterà il piano formativo a valere sul sistema di imprese e se ci sono disponibilità ma ci sono sempre congruamente larghe le disponibilità di risorse all'interno del sistema di imprese di edotto noi finanziamo il piano e via così quindi pochi giorni lavorativi Gianni adesso rispondiamo all'ultima domanda che sono finanziabili anche i corsi per apprendisti assolutamente sì perché gli apprendisti di aziende aderenti al fondo sono anche assoggettati da poco tempo a questa parte anche al versamento seppure in quota marginale dello 0,30 ma in ogni caso noi anche prima che il versamento degli oneri contributivi venisse esteso anche agli apprendisti li consideravamo come allievi rendi contabili quindi sono tipologie di lavoratori che possono fruire di attività formative finanziate dal fondo aggiungo anche visto che si è parlato degli apprendisti anche i lavoratori in mobilità nei periodi o agli stagionali nei periodi in cui diciamo la stagione produttiva dell'azienda mi riferisco al comparto turistico ricettivo piuttosto che altre cose stiamo parlando di altre situazioni però dico anche per loro è possibile fare formazione perfetto Gianni grazie mille grazie a voi ovviamente noi rimaniamo a disposizione per rispondere alle domande nei vari diversi canali potete scrivermi a formazione chiocciolanetesis.it e avrete tutte tutte le informazioni tutte le risposte del caso eventualmente poi rigireremo le domande a chi di dovere se è necessario dico sono a disposizione perché se nella nella richiesta o nella richiesta di approfondimento fosse necessario una risposta diretta del fondo io sono a disposizione poi farete voi in modo di veicolare nel più breve tempo possibile via la risposta all'azienda grazie certamente e vi ricordo anche che ci sono ancora tantissimi corsi disponibili nella nostra piattaforma e-learning per cui avviate la procedura di iscrizione al forer come se l'avete già fatto pronotate i vostri corsi noi ci rivediamo prestissimo un saluto a Gianni un saluto a Roberta un saluto a tutti i partecipanti grazie a tutti arrivederci buon lavoro e buona formazione a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti